L'applauso a questo punto si sposta sugli alpini con Damiano Lenzi, Mattei Dalin, Michele Boscacci, Nadine Magheer Passa Damiano Lenzi, Mattei Dalin, Michele Boscacci, Nadine Magheer Uscito dal campo Pelli al comando in sanitaria Bopei Lanzianchi Hanno male di circa 30 secondi sugli alpini con Damiano Lenzi Ci sono anche gli Svizze attivamente in gare con il tuo Bechner Martì con Maxi Dantavatton Molto rapidi al cambio Pelli, i campionati del mondo Damiano Lenzi con Mattei Dalin